e riprendiamo gli esercizi che avevamo iniziato ieri su questo esercizio cosiddetto dei gelati quindi andiamo a riprendere la slide pardon sto prendendo il file sbagliato dimenticazione aprirlo prima scusatemi allora 2020 slide unità 8 era qui l'esercizio delle vendite dei gelati allora questo esercizio qui cosa ci chiedono di fare ci chiedono di dunque parte da qua il testo si considera il problema di estrarre dei dati da un file di testo che rappresenta le vendite annue di differenti gusti di gelato in diversi negozi di una catena di gelaterie ciascuna il succo dell'esercizio inizia qua ciascuna riga rappresenta un gusto ciascuna colonna rappresenta un negozio quindi in questo caso abbiamo cinque gusti vaniglia, cioccolato, questo Rocky Road che può essere qualunque cosa fragola e cookie duff sono cinque gusti diversi e ciascuna colonna rappresenta le vendite le vendite annue in tre negozi il negozio numero uno ha venduto 8.500 dollari immagino di vaniglia 10.000 dollari di cioccolato 6.600 di Rocky Road e così via il negozio due ha venduto 7.200 dollari di vaniglia di gelato alla vaniglia chiaramente 9.000 di gelato al cioccolato 5.000 di gelato a Rocky Road e così via quindi è una tabella di informazioni organizzata per righe e per colonne le righe hanno in questo caso il significato dei gusti le colonne hanno in questo caso il significato dei negozi in questo caso sappiamo che ci sono o vediamo che ci sono tre negozi possibili di cui vogliamo tenere traccia ciò che vogliamo fare cosa deve fare il programma vogliamo elaborare i dati in modo da produrre un report simile a quello seguente allora simile a questo seguente semplicemente abbiamo la prima parte che altro non è o perlomeno fatemi prendere la matita questa parte che va da qui fino a qui se un giorno mi offrono un superpotere chiederò il potere di fare le righe dritte questa parte che ho riquadrato con questa linea ondivaga non è altro che la stampa del contenuto del file semplicemente incolonnata meglio ok poi abbiamo dei totali di colonna che sono qua sotto e dei scusate dei totali di riga che sono qua e degli altri totali di colonna che sono qua in basso quindi dobbiamo leggere questi dati e fare un po' di somme e stampare risultati ok allora questo non è difficile il focus dell'esercizio è di nuovo quello di farci ragionare su come ci conviene rappresentare questi dati è una tabella noi avevamo imparato una tabella con righe e colonne e noi avevamo imparato che la tabella le poteva un modo per poter rappresentare era quella di fare liste di liste no? ricordate l'abbiamo usato spesso le liste di liste vanno bene soprattutto quando i dati all'interno della tabella sono uniformi quindi magari sono tutti numeri in questo caso non sono tutti numeri perché la prima colonna di ciascuna lista ciascuna riga diciamo non sappiamo ancora se le vogliamo memorizzare come liste la prima colonna contiene una stringa e le successive colonne invece contengono dei numeri quindi mettere non è vietato ma però mettere stringhe e numeri mescolati nella stessa lista può creare confusione perché devo ricordarmi che l'elemento 0 è una stringa gli elementi 1, 2, 3 invece sono dei numeri no? come dicevo tutto si può fare per noi cerchiamo quale sia la soluzione migliore più naturale più versatile no? per il nostro per il nostro programma poi ovviamente l'output lo voglio ordinato in ordine alfabetico vedete che qua c'è cioccolare i cookie poi i rocchi poi i strawberry poi i vaniglia per ultimo anche se nel file la vaniglia compare per primo quindi voglio avere un modo comodo un modo comodo di di poter ordinare l'elemento allora separiamo due due operazioni una due scelte la prima scelta la prima scelta principale è come rappresento i dati e i dati sono questi i dati sono solamente questi i dati di partenza ok? perché poi questi questi sono dei risultati calcolati quindi me li posso calcolare in qualunque momento quando ho bisogno di stamparli quindi devo immaginare una struttura dati che mi servono per rappresentare l'informazione primaria poi da lì calcolo calcolerò le altre informazioni che devo stampare allora anche qua possiamo pensare una struttura dati a due livelli il cui il primo livello serva per registrare i gusti che abbiamo e a ciascun gusto associamo quelle che sono le informazioni e questa stessa parola associamo ci fa venire in mente un dizionario giustamente come avete come ha detto Maria Chiara in chat una possibilità potrebbe essere quella appunto di usare un dizionario di liste e quindi le singole righe sono rappresentate dalle entry del dizionario in cui la chiave come sempre devo specificare quando parlo di un dizionario devo dirmi innanzitutto convincere me stesso qual è la chiave qual è il valore la chiave è una stringa che rappresenta il gusto del gelato il valore il valore che è associato a ciascuna chiave sarà una lista di numeri reali corrispondenti ai tre negozi nei quali i gelati sono stati venduti questo è una possibilità un'altra possibilità potrebbe essere una lista di tuple un pochino più complicata però potrebbe essere una cosa come una lista quindi avrei una lista di tuple il cui primo elemento è il gusto vaniglia il secondo elemento è una lista quindi 6700 metto di numeri a caso 127 e quindi avrei ogni riga rappresentata da una tupla anziché un entro nel dizionario la prima colonna il primo elemento della tupla sarebbe il nome il secondo elemento della tupla sarebbe la lista che contiene i prezzi virgola seconda tupla qui abbiamo il chocolate e avremo i valori corrispondenti al chocolate e così via e tutte queste tuple le raccolgo in un'unica lista è un pochino più scomodo perché tutte le volte che devo ah ho bisogno di sapere quanto ho speso quanto ho guadagnato per il cioccolato devo scandirmi la lista alla ricerca della tupla che contiene come primo elemento il cioccolato mentre invece col dizionario accesso diretto se conosco la chiave ottengo immediatamente la riga ovviamente nel primo caso ho una lista e quindi la lista è più facile da mantenere nell'ordine che mi piace nel secondo caso ho un dizionario in cui ordine invece è diciamo il selvaggio ma è più facile invece accedere ai singoli elementi anche qua non esiste mai una soluzione sola ma esistono pro e contro per le varie soluzioni Alida mi chiede se sarebbe sbagliato mettere i prezzi in un insieme come ieri e sì sarebbe concettualmente sbagliato per due motivi il primo motivo è che l'insieme è intrinsecamente disordinato mentre io invece ho i prezzi questi sono il negozio numero uno questi sono il negozio numero due questi sono il negozio numero tre se io li metto in un insieme non so più poi io so che un negozio ma non so più quale aveva guadagnato diecimila un negozio non so più quale aveva guadagnato novemila venticinque eccetera eccetera però mi sono perso qui l'ordine l'ordine di questi tre elementi è importante perché questi tre elementi corrispondono ai tre negozi primo motivo secondo motivo se malauguratamente due negozi vendessero esattamente la stessa cifra numerica quindi diecimila uno diecimila l'altro mettere in un set verrebbe il duplicato verrebbe eliminato e quindi mi troverai solamente due dati anziché tre quindi in questo caso un set non è non è adeguato per due motivi uno perché i duplicati ci possono essere e li voglio tenere e due perché l'ordine è importante quindi queste due cose mi dicono lista urlano lista e non urlano insieme ok Emanuele credo che abbia fatto copia e incolla per per creare il file immagino ma anche se era già sullo zip che vi ho condiviso ieri non credo che sia una domanda la sua dizionari è anche un'altra possibilità dice Andrea quindi fare in modo che la parte di un dizionario il cui valore non sia una lista ma sia un altro dizionario però giustamente come scrive lui se questo fosse un dizionario dovrei avere il nome del negozio 1 col suo valore 6.700 il nome del negozio 2 negozio 2 virgola 5.012 virgola negozio 3 e allora 7.056 il problema è il nome di negozio non li conosco non ci sono nel testo non ci sono nel file non sono specificati e allora me li devo inventare no? vabbè inventare di per sé non è un problema però capite che se voi li chiamo 1,2,3 in realtà sto ricostruendo una lista con un dizionario perché se il primo elemento il negozio 1 lo chiamiamo 1 vabbè 1 anziché 0 potremmo chiamare 0,1,2 però se voi create un dizionario le cui chiavi siano numeri interi consecutivi e di fatto avete fatto una lista una lista che è una struttura che si indicizza proprio con un numero intero consecutivo quindi se avessimo avuto dei nomi nelle colonne negozio di Los Angeles New York e Washington ottimo avrei usato un dizionario ma poiché non ho dei nomi ma semplicemente un ordine allora la complessità aggiuntiva al dizionario non serve perché le chiavi non avendo delle chiavi diciamo che hanno un valore reale vero avrei usato delle chiavi numeriche e a questo punto usiamo una lista che è già fatta con tra virgolette come se fosse un dizionario con le chiavi numeriche 0,1,2,3 la sintassi con una parentesi quadra è la stessa e quindi in questo caso è più semplice Andrea mi chiede se un dizionario che abbia un numero intero come chiave rispetto a una lista qual è più veloce allora se i numeri sono consecutivi assolutamente la lista assolutamente ha senso usare un dizionario le cui chiavi siano numeri interi solamente se questi numeri interi sono sparsi quindi la lista ha i numeri che però vanno da 0 a n-1 è cablato non lo potete cambiare se questi numeri interi che voi doveste usare per indicizzare come chiave un dizionario fossero anch'essi da 0 a n-1 allora non ha senso usare un dizionario non dà nessun vantaggio se invece questi numeri fossero numeri sparsi 1, 7, 300, 12.000 meno 6 allora a quel punto magari per non fare il lavoro come indici di una lista non li puoi usare dei numeri sparsi devono essere consecutivi allora in quel caso puoi usare un dizionario però capiamo che la prima domanda che ci facciamo è di funzionalità non di efficienza che si può fare con dei numeri interi sparsi un dizionario sì con una lista no e allora un dizionario si può fare con i numeri interi consecutivi una lista sì un dizionario sì anche qual è più semplice la lista e allora non vado a complicarmi la vita ricordatevi il principio base quando voi fate progettazione keep it simple keep it simple di solito si aggiunge una seconda S keep it simple stupid cercate di mantenere le cose il più semplice possibile non aggiungete complessità se non è necessaria ok allora altre due domande che ho visto nella chat Alessio ci chiede se nel testo d'esame ci sono delle richieste del tipo usate una lista di tupe usate un dizionario eccetera generalmente no tendenzialmente no cerchiamo di riscrivervi il testo descrive il problema mentre la soluzione è il vostro lavoro trovare qual è il modo di risolvere quel problema possono esserci dei casetti particolari in cui magari vi diamo un suggerimento ok perché magari non è ci immaginiamo che possa non essere ovvio qual è la scelta migliore allora magari vi diamo un suggerimento ma tendenzialmente il problema vi dice che elaborazione dovete fare poi come la facciate quali strutture di dati scegliate fa parte della vostra progettazione non è vincolato dal testo Filippo mi chiede se conviene usare liste quando abbiamo tipologie di dati simili dipende perché non è tanto il dato contenuto allora ti do due risposte a questa domanda la prima è che se ho dei dati simili posso considerarli mettere in una lista se ho dei dati dissimili preferisco non mettere in una lista cioè se ho una stringa e un testo non me li vedo bene come primo e secondo elemento di una lista una stringa è un testo scemo una stringa è un numero non me li vedo bene come due elementi di una lista magari in una tupla magari in un dizionario liste con elementi difformi sono difficili per un motivo molto semplice la lista siamo abituati for elemento in lista se però questo elemento è di tipo diverso dentro il ciclo for cosa faccio se il primo elemento devo trattare in un modo secondo in un modo diverso eccetera eccetera quindi non si presta poi a essere usata comodamente come lista quindi a questo punto magari avere un dizionario con i vari campi chiave questa è la prima la prima metà della risposta alla domanda di Filippo la seconda e quindi questo ha a che fare con i valori se i valori sono difformi non sono dello stesso tipo tendenzialmente cerco magari di non usare una lista non vi posso dare una risposta certa sempre sì o sempre no perché non è così la vita non è così il mondo non è così l'ingegneria l'ingegneria è fatta di trovare la scelta migliore e non ci sarà mai quella ideale ci sono sempre dei pro e dei contro però abbiamo dei criteri di scelta che possiamo applicare ma ci sarà sempre l'eccezione quindi non troverete mai una risposta certa ricordate il dipende che è la risposta standard a tutto quindi primo criterio se ho elementi dello stesso tipo stanno bene in una lista se ho elementi di tipo diverso scricchiola un po' mettere in una lista seconda risposta seconda valutazione è sulle chiavi cioè come accedo come indicizzo questi elementi se ci indicizzo semplicemente se li accedo li riconosco per ordine il primo il secondo il terzo il quarto va benissimo una lista perché ha degli indici numerici se invece li riconosco per un altro criterio per una loro proprietà per un loro attributo per la città per il nome o per un altro codice e allora a questo punto la lista non si presta perché la lista può essere indicizzata solamente con numeri interi consecutivi che partono da zero e questo è il vincolo forte altrimenti si usa il dizionario che è il passo il passo dopo quindi ci sono pro e contro valutazioni da fare ogni volta ok allora finito il ragionamento che è la parte diciamo così più più complessa più che diciamo così che richiede la nostra intelligenza da adesso in avanti si tratta di scrivere il codice di questo esercizio se abbiamo scelto di fare un dizionario di liste e l'abbiamo motivato nel senso che una possibilità che abbiamo valutato era la lista di tuple però poi abbiamo detto ogni volta che poi devo prendere un gusto devo scandire la lista quindi è scomodo avevamo pensato al dizionario di dizionari poi abbiamo detto ma in realtà poi queste chiavi qui non sono chiavi vere e allora tanto vale fare una lista che è più semplice e quindi siamo tornati diciamo così alla nostra ipotesi iniziale dopo averne vagliate due o tre possibili e quindi anche qua strutturiamo il nostro programma in due parti la prima parte che crea la struttura dati leggendo dal file la seconda parte che invece stamperà a video la struttura dati ordinata con aggiunti ovviamente i vari totali che deve calcolare allora a questo punto passiamo al codice e quindi possiamo creare il nostro programmino gelati gelati che vada a provare a risolvere soluzione problema esercizio gelati o ice cream che dir si voglia quindi noi abbiamo il nostro nome file che contiene i dati che sarà ice cream punto txt e dobbiamo elaborare queste informazioni quindi abbiamo magari una prima funzione che legge il file che riceve come parametro il nome che dovrà costruire questa nostra struttura dati che era appunto un dizionario che ha come chiavi quindi diciamo chiamiamolo gelati è un dizionario vuoto quindi mettiamolo come commento esplicito la struttura dati utilizzata sarà un dizionario che ha come chiave una stringa che è il nome del gusto del gelato come valore una lista di numeri reali che contengono le vendite dei tre negozi in ordine e l'ordine è specificato nel file ok allora allora abbiamo faccio spazio creiamo un dizionario vuoto e poi nell'apertura del file in file uguale open nome file in lettura in file punto close quindi ricordiamo mi ricordo sempre di chiuderlo appena lo apro così non lo dimenticherò più avanti e leggo il file in una riga per volta allora qui devo metterci la conoscenza della struttura del file quindi questo file sarà fatto da righe for line in file ogni riga è composta in questo caso da quattro campi in generale dallo stesso numero di campi io dico quattro campi perché abbiamo tre negozi però in teoria vediamo se riusciamo a ragionare in caso generale anche se avessimo qualche negozio in più perché non c'è scritto nessuna parte nel testo che i negozi devono essere necessariamente tre ma di sicuro il primo campo conterrà il nome del gusto allora come faccio a ottenere spezzare i vari campi questo lo sappiamo già fare l'abbiamo fatto mille volte devo prendere la linea tolgo il la capo a destra il carattere di a capo a destra e poi la divido in questo caso sul carattere di due punti che è il separatore usato in questo file scusate si chiama in file non file quindi questo campi mi dice quali sono i vari campi della singola linea il nome del gusto solo per comodità nostra lo metto come lo estrago come campi di zero così mi ricordo cosa c'è nel primo campo e poi invece i valori saranno invece i campi successivi campi successivi che non so quanti sono li prendo uno uno e li metto in una lista quindi i valori sono prendo una lista vuota e per tutti i campi che vanno dall'uno in poi qui lo zero abbiamo il nome la prima colonna di dati cioè la seconda colonna la prima colonna dei numeri cioè la seconda colonna del file sarà il campo numero uno quindi for in range che va da uno a la lunghezza dei campi prenderò il singolo valore quindi campi di lo converto in float perché questa è una stringa float e lo aggiungo ai valori non faccio l'operazione che mi dice Mattia di usare una slice perché questi campi non li devo solamente copiare ma li devo anche convertire stringhe a float quindi devo prendere uno per uno oppure sì potrei usarlo nel for la slice qui e poi comunque uno per uno lo posso aggiungere ma insomma cambia poco a questo punto ho il vettore dei valori e semplicemente mi aggiungo nel mio dicionario una nuova entry la cui chiave è il gusto e il cui valore associato a questa chiave è la lista che ho appena costruito e poi posso ritornare gelati il mio dizionario che ho appena creato vediamo se funziona questa cosa qui immaginiamo di farlo dentro l'ambiente di programmazione di prima quindi abbiamo scritto il codice adesso dobbiamo verificare se funziona prima di andare avanti io farei semplicemente un piccolo un codice che chiamo a questa funzione uguale leggi file di nome file maiuscolo e poi facciamo una print di gelati vediamo semplicemente sulla console questa cosa qua non so se vi avevo già parlato la funzione pretty print a volte può tornare comoda from pprint import che è una stampa un pochino più pretty un pochino più carina delle strutture dati complicate quindi quando la pprint funziona come la print se ci sta su una riga sola se è su più righe invece cerca di mandare a capo in modo da renderlo un pochino più legibile quindi questo dovrebbe essere corretto se sembra che i numeri siano giusti siano associati correttamente al gusto ok quindi ci dà confidenza sul fatto che il file l'abbiamo letto correttamente ci sono 5 righe 3 colonne eccetera eccetera possiamo fare import librerie esterne sì perché sono le librerie standard di python sono tutte disponibili nell'istrazione di python e quindi potete importare qualunque modulo standard il modulo matematica il modulo in questo caso il print non moduli esterni alla libreria standard però diciamo non ne abbiamo bisogno ok andiamo avanti a questo punto dobbiamo stampare il risultato quindi possiamo avere la nostra funzione stampa tabella che riceve in ingresso ovviamente il nostro dizionario in ingerati e dovrà fare due calcoli stupidi cioè somma di righe e somma di colonne e lavorare un pochino con la formattazione degli spazi degli elementi eccetera ok che è una parte che tendenzialmente è erogiosa allora nell'esame io cercherò adesso appunto il dettaglio il test di esame li prepareremo all'ultimo momento anche per non farci sfuggire dei suggerimenti ma visto che l'output voi lo vedrete solamente in quella finestra di testo in quella finestra di testo i caratteri sono proporzionali non sono di larghezza fissa come questi è chiaro che non andremo a focalizzare il test di esame sull'allineamento sull'incolonamento dei dati perché diventa difficile da valutare pretty pretty mette in ordine alfabetico i dati no non dovrebbe lo fa ho visto che sono saltati fuori in ordine alfabetico scusate fammi vedere sembrerebbe di sì bisogna vedere la documentazione non ci avevo mai fatto caso non dice non dice molto la documentazione ecco qua sort dx uguale true ha un parametro di default che dice che se ciò che deve stampare è un dizionario lui per default lo ordina se a noi non piace questo comportamento lo disattiviamo perché magari noi vogliamo vedere i dati così come erano quindi in questo caso possiamo passare il parametro sort dx uguale false e me lo stampa in ordine di apparizione in ordine di presenza di dati anziché in ordinato grazie per aver notato il dettaglio quindi il fatto che sia un ordine alfabetico è una funzionalità di default della funzione pretty print che possiamo abilitare oppure disabilitare pretty print è il nome sia della funzione che del modulo quindi c'è questa scrittura strana from pretty print che è il nome del modulo importa una funzione che si chiama anche essa stessa pretty print vabbè ma non facciamoci un castello su questo dicevamo vogliamo stampare la tabella e quindi noi abbiamo vediamo un po' come deve essere fatta la tabella andiamo a riprenderci la slide partiamo subito con le varie righe del dizionario e di ciascuna riga stampiamo il gusto i tre valori e il totale ok quindi noi abbiamo un primo ciclo in cui stampiamo il gusto in sorted di gelati li mettiamo in ordine alfabetico per gelato e per ciascun gusto dovremo stampare il gusto e i vari i vari valori e anche il totale quindi il totale per il gusto altro che non è quindi devo stampare l'ultima colonna altro non è che la somma degli elementi che stanno nella lista associata a questo gusto quindi la lista associata a questo gusto altro non è che gelati di gusto quindi gusto è il nome del gusto gelati di gusto è il value associato a questa chiave che nel nostro caso è una lista sum è la somma degli elementi nella lista quindi questo lo devo stampare a questo punto facile ascolta faccio fare una stampa dovrò stampare prima di tutto il gusto e magari lo stampo come con una gli do magari 20 caratteri 20s and uguale nulla devo stampare vari pezzi poi devo stampare gli elementi della lista ciascuno con la sua spaziatura con la sua formattazione poiché a priori non so quanti sono so che sono tre ma in generale for vendita in gelati di gusto per ciascun elemento andrò a stampare il valore vendita vediamogli anche qua poi vediamo come viene vendita di 20 caratteri come floating point punto 2 con due cifre decimali e sempre senza caratteri fine linea e infine stamperemo anche il totale di il totale di riga tot gusto magari lo spazziamo un po' di più quindi non sono 20 sono 25 vediamo cosa salta fuori ebbè non ho chiamata questa stampa tabella quindi giustamente si offende stampa tabella di gelati quindi anziché fare la pretty print intoliamo la nostra funzione che si dimentica di andare a capo e quindi dobbiamo metterla alla fine di ogni iterazione del ciclo esterno eccolo qua quindi forse 20 sono fin tanti possiamo mettere magari 15 non so carattere in totale 15 di qua 15 di qua 20 20 per distanziarlo una cosa un pochino più leggibile e poi ci manca ancora di stampare l'ultima riga ci manca di stampare l'ultima riga che deve contenere i totali di ciascuna delle delle colonne allora questi totali ovviamente mi li devo calcolare via via che scendo cioè via via che prendo il singolo gusto mi devo accumulare i vari totali quindi io dovrò avere un vettore di totali per negozi che dovrà essere una lista composta di tanti zeri quanti sono i negozi quindi io posso costruire una lista composta in questo caso da tre zeri beh non sono tre se voglio metterlo in generale sarà la lunghezza questo è un dizionario quindi diventa difficile prendere un elemento a caso perché non posso dire prendi il primo mettiamo tre per ora poi eventualmente ci pensiamo come generalizzarlo quindi abbiamo creato una lista con i tre totali e man mano che stampiamo il valore di vendita devo aggiornare anche questo totale nella colonna opportuna quindi in questo caso dovrò aggiornare totale negozio totale negozio di un certo i uguale totale negozio di più vendita ecco in questo caso mi serve anche l'indice i per poter sommare la colonna giusta e quindi dovrò trasformare questo ciclo for già un ciclo for sui valori a un ciclo for sugli indici quindi i in range di length di gelati gusto vendita uguale gelati di gusto di i i i ricordiamoci era la lista di è il singolo elemento della lista ok e quindi ho questo totale negozi e quindi alla fine potrò avere l'ultima riga poi rispondo alle vostre domande però così non perdo il filo l'ultima riga dovrò stampare innanzitutto un nulla per 15 spazi quindi devo avere un vuoto bianco di 15 spazi quindi dovrò stampare prima di tutto 15 spazi spazio per 15 senza andare a capo e poi dovrò avere un ciclo for for totale in totale negozio in cui a ciascun elemento stampo una cosa di questo genere cerco il totale di riga che in questo caso sarà tot e poi vado a capo quindi vediamo un po' cosa ho sbagliato ah c'è un punto che non so come ho fatto a mettere ok e compaiono questi totali di colonna che ho calcolato qua allora andiamo alle domande che avete fatto Antonio poco leggibile ma non molto di più non ho capito a cosa ti riferisci ah no c'è una prima domanda di Mattia quando consegniamo il compito dobbiamo eliminare tutte le funzioni di test che abbiamo scritto no non necessariamente non è obbligatorio se volete lasciare qualche magari commentandolo se volete lasciare qualche codice che avete scritto anche perché sai all'ultimo momento magari hai un dubbio magari vuoi riverificare e allora togli il commento e fai rivedere diciamo così le print di prova che hai fatto prima non è un problema se ci fossero non ci dà problema quello che vi sconsiglio è cercare negli ultimi 30 secondi di ripulire il codice togliendo le cose che non servono perché poi è garantito che togliete anche qualcosa che serve quindi non è cercate di mantenere il più possibile ordinato così si capisce diciamo così dove sono le parti di debug le parti diciamo così funzionali l'altra domanda di Mattia è non esiste un modo di trattare l'output sullo schermo come un file di output in modo da testare più facilmente quello che andiamo a produrre allora la risposta è sì nel senso che se volete la funzione print ha anche un parametro aggiuntivo che si chiama file quindi se volete voi potete fare tutte le vostre print che vanno sul schermo e poi basta che aggiungiate per ciascuna print però purtroppo l'ho fatta su tutte quindi è molto noioso e quindi è facile dimenticarne qualcuna un parametro file uguale con l'oggetto file che avete aperto e allora in quel momento le stesse print che prima facevate a video adesso le riversate sul file quindi è un modo diciamo così istantaneo per convertire un output che ho fatto video in un output che ho fatto su file a questo punto su file potete usare la print e non necessariamente la write perché magari il resto del programma è già fatto con il print questo è un modo oppure semplicemente vi create il file e le ultime due righe ve lo stampate a video basta due istruzioni abbiamo visto apro e faccio print file.read e ho tutto Beatrice mi dice giustamente su questo tre che lo collego anche alla domanda di Luca a cosa serve questa istruzione allora questa istruzione questa lista tot negozio mi memorizza questi tre valori che sono i totali di ciascun negozio il totale di tutta il negozio zero il tutto negozio uno tutto negozio due ok io dentro questo ciclo ogni volta che ho il valore di una vendita di un negozio per un certo gusto vado a incrementare il totale di quel negozio io uguale zero al primo negozio io uguale uno al secondo negozio io uguale due al terzo negozio per poter fare questa somma io devo avere una lista che contiene zero 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 quindi questa sintassi prende una lista che contiene un elemento e la moltiplica per tre quindi da quell'elemento ne fa diventare tre l'imbarazzo che ho avuto quando ho scritto questo tre è il fatto che è l'unico punto in cui so che i negozi sono tre in tutto il resto del programma se i negozi fossero due fossero otto funzionerebbe correttamente e allora stavo pensando al volo un modo per estrarre quel valore il numero di colonne la soluzione che mi suggerisce Beatrice purtroppo non è giusta perché gelati punto values non è non è completa ma compensa lei mi dice ma qua mettimi il gelati punto values la lunghezza è il gelati punto values gelati punto values che cos'è? è una lista che contiene i valori quindi è una lista che contiene delle liste la lunghezza di questa lista è il numero di entri del dizionario quindi in realtà quello che mi serve non è il numero di entri del dizionario ma è il numero di elementi in una singola lista di ciascuna entry quindi in realtà dovrei fare prendere magari la prima non so se ci sia più contorto qua o lasciare il 3 però è una buona idea andare a prendere dal dizionario l'elenco dei valori l'elenco dei valori prendo e che sono una lista di valori ciascun valore è a sua volta una lista di tre elementi quindi una lista di liste se faccio la length di questa mi dice quante righe ha il dizionario sarebbe la stessa cosa che fare length di gelati c'è la lunghezza intera del dizionario il numero di entri però visto che è una lista di values posso prendere la prima values e quindi è una lista che contiene tre elementi e calcolo la sua lunghezza quindi mi hai messo sulla buona strada Andrea so sempre su questo tema salto sotto l'en di gelati di gusto sì ma quale gusto il problema è questo cioè se io avessi scritto l'en di gelati di gusto ma gusto qual è? gusto assume il valore delle singole chiavi dentro il for ma qui sono prima del for e quindi dovrei mettere potrei mettere vaniglia però devo sapere che esiste un gusto che si chiama vaniglia non è detto che ci sia un gusto che si chiama vaniglia quindi dovrei sapere dovrei prenderne uno magari che non so il primo dovrei prendere qualcosa tipo gelati punto keys che mi dà tutte le chiavi e poi il primo ad esempio allora in questo caso sto prendendo la prima chiave dove prima è da intendersi ovviamente tra virgolette perché le chiavi non sono ordinate però la prima che mi dà sono tutti sotterfuggi dovuti al fatto che i dizionari non sono ordinati e quindi andare a prendere il generico elemento o il primo elemento è più rognoso di quanto non ci aspetteremo però anche questa soluzione potrebbe andare bene lavorando sulle chiavi e poi accedendo al dizionario ok perché values non è subscriptable è una lista è una lista quindi non dovrei avere problemi a prenderlo zero adesso lo dico parole ma proviamolo sì infatti dict values allora cosa ho fatto di male che devo convertirlo in una lista prima di prendere elemento ok questo list davanti non voglio perdere le prossime otto ore a spiegarlo l'idea è che girati.values in realtà non è ancora la lista ma è un oggetto che è capace di costruire la lista quindi è una lista fatemi dire in potenza potenzialmente come un range non è ancora la lista ma è un oggetto che è capace di generare il range se io voglio espanderlo devo convertirlo specificamente in una lista e poi prendere il primo elemento mi sto quasi quasi pentendo di non aver messo un 3 qua dentro o meglio di non aver letto in leggi file quando avevo questi valori il numero di negozi che avevo l'avrei potuto salvare in un'altra variabile restituirla qua e poi usarla quindi a questo punto magari era più comodo visto che le cose si stanno complicando se magari un negozio Alessandro non vende un gusto come faccio per creare una lista per il totale visto che il negozio non è uguale per tutti allora questo qua è un problema nella se un negozio non vende un gusto e beh questo è un problema già nel file ordinario perché se nel file originario io avessi questo che non vende un gusto non posso semplicemente cancellare questo campo perché se cancello il campo intero questo secondo valore verrebbe attribuito anziché al terzo negozio al secondo negozio e quindi se io non vendo un gusto dovrei mettere zero a monte perché altrimenti il dato iniziale il file iniziale non sarebbe interpretabile in modo corretto ok quindi che ci sia un campo vuoto e allora se ci fosse un campo vuoto dovrei gestirlo come caso particolare nella procedura di lettura oppure la cosa più ragionevole è che quel negozio quanto hai venduto alla fine dell'anno di Rocky Road niente perché non lo vendo allora metto zero ok quindi in questo caso qui stiamo stiamo assumendo che tutti i negozi abbiano o combino che tutto il file abbia lo stesso numero di colonne Mattia mi dice bisognerebbe prendere un entry a caso al dizionario sempre legato alla lunghezza dell'elemento un entry a caso al dizionario è esattamente ciò che facciamo qua prendo le keys che mi dà un insieme tra l'altro questa qui dovrebbe essere un insieme quindi anche qua probabilmente dovrò convertirlo in lista perché keys sono insieme e poi prendo la prima e quindi mi salta fuori un gusto arbitrario a caso non lo direi perché a caso implica che i numeri siano realmente casuali invece uno qualsiasi degli elementi se salvassi Matteo se salvassi la lista dei values nella funzione leggy file lo passassi come secondo argomento di funzione esatto e sarebbe forse la soluzione più semplice rispetto ad andarsi a impegolare qua diciamo che io ero partito dicendo qua metto 3 poi cerco di generalizzare mi accorgo che generalizzare questo sta cominciando a diventare complicato quindi sto intortando nei dettagli dei meandri di come sono organizzati i dizionari ma veramente aggiungo un parametro qua tanto non c'è nessuno che mi dice quanti parametri non aveva la funzione numero di negozi è anche molto più chiaro e via ovviamente questo numero di negozi dovrò farmelo ritornare da chi lo conosce cioè dalla leggy file e quindi basterà che io mi salvi qua quando leggo questi valori che gli sto aggiungendo numero di negozi uguale a lunghezza di questi valori e quindi ritorno sia i gelati che i numero di negozi e poi ovviamente qua leggerò gelati in un negozi come tupla e la passo al secondo parametro ho fatto tre modifiche senza complicarmi troppo la vita quindi di fatto la soluzione più semplice era questa di estrarre il dato dove è comodo conoscerlo e poi me lo porto me lo salvo e me lo porto avanti ok rispondo prima a Mattia che mi chiede se non si potrebbe salvare una lista di zero direttamente in gelati sotto una chiave speciale mi puzza avere una riga in più che però ogni volta devo controllare che non sia lei perché poi quando stampo la tabella devo saltare quella riga perché è la riga speciale che contiene i totali quando dovessi fare altri tipi di operazioni devo sempre ricordarmi che quella riga lì con quella chiave speciale prefisco se sono dati che non c'entrano con la tabella prefisco tenerli fuori dalla tabella fuori dal dizionario poi c'è Antonio che mi ricorda una cosa che mi avete già detto prima nel senso che queste due righe sono ridondanti perché io sto dicendo non andare a capo e subito dopo sto dicendo vai a capo quindi giustamente quindi dovrebbe funzionare esattamente nel stesso modo Filippo mi dice che si è un pochino perso dall'engelati gusto in poi da qua dalla riga 30 quindi allora tanto per riorientarci qui abbiamo mettiamo due commenti qui abbiamo costruisci inizializza totali per negozio 0 0 0 ok a questo punto qui stampiamo la tabella per gusto ok quindi i vari gusti in sordo e gelati sono le chiavi qui questo top gusto è la somma di riga un commento somma di riga e l'ho calcolata quindi fin qua ho calcolato tutto ciò che mi serve da qui in poi sto stampando quindi stampa il gusto che è la prima colonna e poi in questo range successivo stampa gli incassi dei tre negozi quindi questo è un ciclo che prende il primo il secondo il terzo elemento di gelati gusto ricordiamoci sempre che gelati di gusto è la lista ok quindi io sto facendo il ciclo esterno questo ciclo qua della riga 30 for gusto in sorte gelati sto iterando sulle chiavi questa 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 in ordine alfabetico per ciascuna di queste chiavi nel ciclo interno devo iterare sugli elementi dei values quindi se questo è gelati e questa è la chiave noi l'abbiamo nella variabile gusto questa lista qua la otteniamo per noi come gelati di gusto che è ciò che abbiamo qua gelati di gusto è una lista e io iter dalla posizione 0 la posizione lunghezza meno 1 con il solito range ho usato un range con i e non un range quindi in range anziché in gelati di gusto perché mi serviva l'indice i mi serviva l'indice i non tanto per stampare il valore perché prima infatti quando stampavamo solo i valori non mi serviva ma mi serviva per aggiornare la somma di colonna quindi qua stampa l'incasso di tre negozi questo è l'incasso dell'iesimo negozio per questo gusto e quindi qua invece aggiorna il totale venduto dal negozio il totale dell'iesimo negozio per tutti i gusti e lo stampa e poi stampa il totale di riga per il totale di gusto ok come spesso succede le parti più incasinate meno leggibili sono quelle di input output perché lì ci sono i 12.000 dettagli da considerare mentre le parti di algoritmo tutto sommato sono questa somma qua questa somma qua e soprattutto la costruzione fatta bene della struttura dati ok c'è un'altra domanda la struttura su file mi pare che qua non fosse richiesta in questo testo perché mi chiedeva di produrre un report simile a quello seguente quindi semplicemente bastava produrlo sullo schermo non era non era richiesta ok allora io direi che siamo ben avviati per fare un un intervallo sì Andrea ti rispondo nella chat durante l'intervallo e dunque volevo solo darvi un link e ve lo metto sì questo sito è un sito in cui io per comodità mia mi salvo i vari i vari lavori che stiamo facendo settimana per settimana è una piattaforma si chiama github che è quella che usano tutti i programmatori quelli seri del mondo quindi però non era un argomento che volevamo aggiungere al corso ma è una piattaforma online che serve per condividere il codice le modifiche tenere traccia dello storico permettere a più programmatori di lavorare insieme sullo stesso codice eccetera eccetera e quindi qua nella settimana che si chiama settimana 13 ci sono già i lavori di ieri io poi come sempre ve li salvo in un zip ve li carico sul portale ma sapete che qua li terrò sempre aggiornati quindi se voi vi prendete questo indirizzo che adesso vi metto nella chat poi lo scriverò meglio anche sul sito adesso faccio l'operazione in un attimo di salvare il file così ve lo potete già guardare direttamente nell'intervallo poi a fine della lezione intera salvo tutto lo zip delle due lezioni però se qualcuno volesse sfruttare l'intervallo per dare un'occhiata per provarsi sul suo computer possiamo salvare diciamo così questo gelati punto pi sì quindi soluzione esercizio gelati ok perfetto e quindi vi trovate già in questa cartella in questo sito di cui vi ho messo il link dentro settimana 13 gelati il codice che abbiamo appena scritto insieme quindi se volete guardarlo preferite guardarlo piuttosto che andare a farvi una pausa siete liberi di farlo io invece faccio un break e ci rivediamo tra i soliti 15 minuti quindi alle 11 e 45 in cui faremo un altro esercizio a questo punto abbiamo finito gli esercizi delle slide e vi chiederei di pensare magari sugli esempi che vi ho condiviso ieri questi esercizi qua simili esame se avete una preferenza su quale volete fare e quindi partiamo da quello che preferite voi per svolgerlo nella seconda ora ci vediamo tra 15 minuti buona pausa a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti